Gemi Elettronica è una grossa azienda italiana e alla fine ho scelto il più completo di tutti, quello con il pannello fotovoltaico. E' il più completo di tutti perché questo, che è il B12-2 extraforte, ha la doppia alimentazione a batteria, batteria da auto non fornita ovviamente in dotazione, o a 220 tramite il trasformatore che viene dato in dotazione. La particolarità di questo elettrificatore ovviamente è quello di poterlo installare in qualunque parte della campagna, anche lì dove non arriva la corrente a 220, quindi questo non lo possiamo utilizzare, ma col pannello solare collegato a una batteria, batteria da auto, abbiamo l'indipendenza energetica e possiamo garantire sicurezza ai nostri animali sia da pascolo che da cortile. Vi do qualche informazione tecnica, 6 joule, 6 joule è già una potenza importante, siamo in grado di fronteggiare i cinghiali. I cinghiali non si fermano davanti a nulla, quindi o si costruisce un qualcosa di serio e se i joule sono più che sufficienti,